Milioni di anni fa, grazie all'estinzione dei dinosauri, che piano piano stavano ovviamente sparendo, serpenti di ogni taglia strisciavano sulla terra, specialmente alcuni di dimensioni disumane. Il più grande di essi era conosciuto come Titanoboa, già il nome fa tremare le persone. In confronto al boa costrittore che possiamo trovare oggi, il Titanoboa è su un altro livello, molto più spaventoso e molto più grosso. Fortunatamente è estinto, ma se non lo fosse mai stato? Vediamo di scoprirlo. Ovviamente non ne prenderemo uno vero per esaminarlo, col cavolo. Anch'io ho qualche fobia per i serpenti. Moltissimi ricercatori si sono sempre chiesti quanto potesse essere grande il serpente più grande del mondo, e a quella domanda hanno trovato risposta quando, in Colombia, sono stati ritrovati i resti fossili di un Titanoboa, e da lì hanno scoperto che i moderni boa di oggi sembrano dei giocattolini del Toy Center. Secondo le datazioni è vissuto circa 60 milioni di anni fa, e poteva raggiungere una lunghezza di 15 metri e un peso pari alla tonnellata. Ma essendo i resti fossili molto difficili da ritrovare tutti nella stessa zona, potrebbe essere anche più lungo. Sembra potesse mangiare le antiche tartarughe di quel periodo, e perfino i coccodrilli giganti chiamati coccodrillo morfi. Grazie alla morte di vari dinosauri, il Titanoboa è riuscito a trovare un habitat per svilupparsi. Era la prima foresta neotropicale mai vista, e si trovava in una zona vicino al centro e al sud dell'America di oggi. Ma la vera domanda è, se ne incontrassi uno cosa faresti? Io mi fingerei morto. Ma non penso funzionerebbe. Tornando a noi, parlando di questo bestione, come mai è cresciuto così tanto? Durante l'era del Paleocene, le temperature in quelle zone erano sempre dai 32 gradi Celsius in su. Anche ai giorni nostri noterete sempre che muovendovi sempre più vicini alle zone calde troverete animali sempre più grandi. Ovviamente non comparabili a quelli delle epoche antiche. Il Titanoboa era il re delle foreste, e non a caso. Il modo in cui uccideva le sue vittime era simile a quello dei boa costrittori di oggi. Avvolgeva la sua preda e la stritolava soffocandola. Ma immaginate una tonnellata di serpente che vi strangola. Non è una bella sensazione, vero? E dopo essere entrati nella sua morsa è impossibile uscirne. Prima di arrivare allo stomaco ci saranno i suoi denti a schiacciare le vostre ossa e tutti gli acidi gastrici a sciogliervi completamente. Il suo modo di attaccare era semplice. Seguiva la sua preda sott'acqua, strisciando lentamente nei laghi e nei fiumi, che a cui tempi erano più grandi. E alla fine sulla terraferma prendeva la sua preda. Fortunatamente nell'era Miocene si è estinto questo animale. Se invece fosse ancora vivo ai nostri tempi, il titano boa potrebbe sopravvivere soltanto nelle zone calde, quindi nelle foreste equatoriali. Una buona notizia per chi vive invece nelle zone più a nord e sud del pianeta. Se fosse arrivato a sopravvivere anche ai tempi degli indigeni, sicuramente ne avrebbero fatto un dio e dato in pasto degli animali o degli esseri umani ogni anno. Sarebbe sicuramente stato menzionato anche nei testi sacri. Visto che questo animale cacciava per lo più in acqua, l'unico modo che avrebbero avuto i popoli che vivevano vicino all'equatore di sopravvivere sarebbe stato costruire case sopra gli alberi. L'intera storia degli indigeni americani e della conquista di queste terre sarebbe stata diversa. Ai tempi di oggi, se fosse sopravvissuto, molti avrebbero trovato le armi per abbatterlo e quindi prenderne le pelli o farci del delizioso stufato di titano boa. Come saprete, molti animali rari sono ancora oggi ingredienti segreti di tanti piatti. E non è una bella cosa, vero? Ovviamente anche il prezzo della sua carne sarebbe stato altissimo, forse anche migliaia di euro perché non sarebbe stato facile catturarlo. Magari trovarlo sì, ma metterlo dentro una rete da pescatori è tutta un'altra storia. I coccodrilli sarebbero un'esca perfetta da utilizzare per catturare un titano boa, ma piano piano andrebbero estinti perché questo è appunto il loro cibo primario. La pericolosità di questo animale impedirebbe lo sviluppo di tanti altri e moltissime zone del pianeta non sarebbero state colonizzate dall'uomo, ovviamente intendo le zone con le foreste più folte e calde. Migliaia di film e documentari sarebbero stati fatti su questo animale e la BBC e il National Geographic avrebbero fatto di tutto pur di fotografarne uno, rischiando pure la vita. Non si sa per quale motivo questi animali siano estinti. Molti ricercatori sostengono che sia per via dell'estinzione degli animali più grossi di cui si faceva rifornimento, anche per via di vari cambiamenti climatici. Sembra che dopo l'estinzione dei dinosauri la terra sia diventata molto fredda, arrivando alla famosa era glaciale, e come avrete capito senza temperature calde questo animale non può sopravvivere. Quindi, se fosse ancora vivo, vi piacerebbe averlo come animale domestico? A me no di sicuro. Questo perché dovrei trovare una villona enorme dove tenerlo, visto che i suoi cuccioli sarebbero grandi come un boa costrittore normale di oggi. Fatemi sapere nei commenti se conoscete altri animali enormi e stinti, mettete mi piace per aiutarci a crescere e alla prossima gente!